Le mie amiche che sono di qui, sempre e ovunque con me, grazie! Buonasera ragazzi, facciamo l'alba eh! È una promessa! Grazie particolari anche alla scuola di ballo, scuola in una! Grandi ragazzi, grazie! Sì! Grazie all'amico Valerio Pedrini E alla sua mamma bella, eccola qua! E ci segue costantemente Facebook, il sito internet E fra un po' anche un'altra cosa, ma non svegliamo niente! Sì! Buonasera ragazzi! Gigi! Un altro grazie particolare, lo voglio fare a questi splendidi ragazzi Anche la batteria, Claudio Laticana, Francesco Pieruponte, Lucia, la mia spalla destra, la fisarmonica, bella come il sole, la mia spalla sinistra, la mia entri del gruppo, bella, meravigliosamente brava, Barbara Insolera! E poi signori! E poi signori, se lui, la splendida voce, la simpatia, lui! Luffiana! 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 Fulano! Luffiana! Grazie! Grazie!